Un'altra dimensione che ci riguarda come Registration Team è anche quello della contabilità, perché ci sono i visti in Vaticano da pagare, le spedizioni del DHL e per la parte contabile se ne occupa Dardanesha che è albanese, non è italiana e anche lei ha una bella storia da raccontare perché non solo ha conosciuto noi vincenziani ma ha conosciuto la fede cristiana attraverso i vincenziani, ma di questo ne può raccontare lei direttamente un po' la sua storia. Ecco Nesha, come è conosciuto i vincenziani e la fede cristiana? Allora i vincenziani li ho conosciuti in Albania quando sono arrivati nel 91-92 dopo la caduta del nostro regime e da allora ho iniziato a frequentare la parrocchia, ho fatto la catechesi, mi sono battezzata. A quanti anni ti sei battezzata? A 15 anni, perché ovviamente l'Albania era sotto il regime comunista, di conseguenza non c'erano le chiese, almeno quando sono nata io non era possibile il battesimo. E così dal 91 diciamo che conosco la grande famiglia dei vincenziani. Sono cresciuta un po' con loro, in Albania ho lavorato anche sempre con i volontari, con i vari gruppi dei vincenziani. Continuo a lavorarci ancora qui a Roma, sempre per la famiglia vincenziana, per le suore, non per i preti questa volta e stiamo sempre lì, stiamo sempre in mezzo ai preti e alle scuole.